La comunità diocesana si appresta ad onorare domenica 15 gennaio il Beato Angelo, compatrono della diocesi di Assisino, c'era Umbra Gualdotadino. Il programma delle celebrazioni, iniziate con la novena di preparazione, condotta da padre Marco Tanca, prevede per sabato 14 gennaio alle 18, nella Basilica Concattedrale di San Benedetto Gualdotadino, la celebrazione del Vespro con la cerimonia dell'offerta dell'olio per la lampada votiva da parte dell'amministrazione comunale. Seguirà alle 21 la veglia di preghiera con la fiaccolata, che muovendo dalla Basilica Concattedrale, si dirigerà verso il cespuglio del Biancospino, situato nell'omonima via, dove si potrà assistere alla prodigiosa fioritura delle spine notturna. In contemporanea, un'altra fiaccolata organizzata dal club alpino italiano CAI partirà dall'eremo del Beato Angelo e ripercorrerà l'antico itinerario compiuto nel lontano 1324 con la salma del Beato Eremita. I due gruppi, solitamente molto numerosi, si ricongiungeranno presso il cespuglio del Biancospino per pregare insieme. Domenica 15 gennaio, sante messe alle 7, alle 8, alle 9 e alle 10, alle 11.15 la solenne concelebrazione eucaristica sarà presieduta dal Vescovo delle Diocesi di Assisino, c'era Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno, Monsignor Domenico Sorrentino. Nel pomeriggio alle 16.30 ci sarà la funzione del transito, alle 17.30 la celebrazione del Vespro e alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Gubbio, Monsignor Luciano Paolo Cibedini. Lunedì 16 gennaio, alle 18, verrà celebrata la Santa Messa per i soci vivi e defunti della Pie Associazione del Beato Angelo. Domenica 15 gennaio la Chiesa resterà aperta dalle 6.30 alle 13 e dalle 15 alle 22.